Ehi Arnold, ho una sorpresa per te. Oggi parteciperai a un esperimento. Non preoccuparti, è fatto da veri professionisti. Oh no! Controlliamo come agiscono i terrestri in condizioni di paura. Questo dors è davvero spaventoso. Ho fatto la pipì per la paura. A proposito, non bere il trucco. Ha fatto 10.000 ore a dors. Non sembra spaventato. E attiviamo l'assenza di gravità. Come nello spazio. Allora Arnold, sei pronto per giocare nello spazio? O semplicemente vola via? Sulla Terra, Arnold, la gravità ti tiene fermo, quindi saltare e volare via non funziona. Ma se potessi guadagnare abbastanza velocità, potresti superare la gravità della Terra. La forza di gravità e la forza di inerzia si bilanciano a vicenda. E puoi volare in sicurezza gravità zero attorno alla Terra. Muoversi in assenza di gravità non è facile. E certamente non con la tua mancanza di grazia. Arnold, sembra che tu abbia scoperto un nuovo tipo di carburante. L'idrogeno solforato. Può aiutarti ad affrontare i mostri. Fortunatamente non sei l'unico ad aver preso l'addestramento pre-volo. Attento, Arnie. Sembra che tu abbia rotto il sigillo. A causa della serratura aperta, l'equilibrio dei gas è completamente fuori controllo. Mettete il vestito, Arnold. Evviva! Ce l'hai fatta! Ma ora c'è un altro problema. Come farai a sentire i mostri adesso? Penso che spaventerai tu stesso tutti i mostri. No, non sei sordo, Arnold. Il suono semplicemente non può viaggiare nel vuoto. Il suono viaggia in onde. Un oggetto vibrante trasmette la sua vibrazione alle molecole o particelle vicine. Nello spazio le molecole dell'aria sono così distanti tra loro che non possono trasmettere vibrazioni. Niente aria, niente suono. Quindi è meglio che te ne stia seduto nell'armario. Sempre che te lo permettano comunque. Houston, abbiamo un problema. Questa è l'ultima porta. Mi chiedo cosa c'è dietro. Arnold, aspetta! Non è ancora finita! Adesso finisce. Adesso finisce.